Iniziamo quindi in questa fase di selezione, in questo secondo giorno di concorso. In questa fase dicevamo che i cantanti, tutti i musicisti, saranno sottomosti a giudizio di esperti in canto liturgico. Importantissimo è da sottolineare che bisogna ricordare che non si valuteranno solo i requisiti tecnico-artistici, ma soprattutto la consapevolezza di essere dei strumenti dell'amore di Dio e quindi la capacità di arrivare al cuore dei fedeli che grazie a loro pregheranno più intensamente e quindi coinvolgere le assemblee in una preghiera universale. I giudici chiamati a svolgere questo delicato lavoro sono Daniele Edenora, Emanuela De Gregorio, Maria Regina Fuccello e Marco Severino, e che salutiamo e li grazie a tutti. Arrivando, oggi invitiamo a visitare la pagina Feschi dedicata a un concorso che è promosso dagli operati Deo, la roma Rosaria e la parrocchia Sant'Ibio e Antonio Bianzio, dove potrete leggere il curriculum dei giudici e conoscere le informazioni in tempo reale durante tutto questo periodo di concorso. Vi ringraziamo ancora e finitamente della vostra entusiastica partecipazione e vi auguriamo che sia un'esperienza che porti gioia, che porti musica, che porti rettizia in tutti noi e nelle vostre famiglie, perché la musica possa aprire i nostri cuori e la parola convertirli. Presentiamo il primo coro che è in concorso questa sera, il coro San Pietro Claverde, la parrocchia omonima di Mecuno, che può prendere il coro San Pietro Claverde, la coordinatrice, la città, che ci introdurrà anche il moderato di questo coro e anche i tre brani che sono in dare e che verranno eseguiti dal coro stesso. Buonasera a tutti, siamo qui stasera in rappresentanza del coro parrocchiale di San Pietro Claverde Nettuno. Il nostro gruppo è caratterizzato dalla presenza di diverse famiglie che manifestano la realtà della Chiesa domestica. Fra noi sono presenti inoltre diverse realtà ecclesiali, neocatilumenali, carismatici, movimento dei popolari, atleta cristi. Ci rendiamo conto come la diversità è un ricchezza che ci fa crescere e camminare nell'odare Dio attraverso la musica e il canto. E seguiremo i seguenti canti. Santo, salve Regina, eterno Signore, buon ascolto. Santo, salve Regina, eterno Signore, buon ascolto. Salve Regina, eterno Signore, buon ascolto. del Signore, buon ascolto. S читoh, buon ascolto. Generale di San Pietro Casano, è buon ascolto. S читoh, buon ascolto. Grazie a tutti. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve Regina. Salve Regina, madre di misericordia, grazie a tutti. Salve Regina, madre di misericordia, grazie a tutti. Salve Regina, madre di misericordia, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.